Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorazzo Antotto e oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta particolarmente a cuore, ovvero della quattordicesima edizione del Festival Piccolo Grande Cinema, come sempre organizzato dalla Cineteca di Milano, che si terrà dal 31 ottobre al 7 novembre. Per me è una cosa molto importante perché il cinema, lo sappiamo tutti, sta vivendo un periodo non particolarmente facile, si sta riprendendo adesso, prima però che si possa tornare a parlare di incassi di un certo tipo passerà almeno un anno, se no addirittura due o anche di più. Quindi la gente ha dimostrato la voglia di andare ancora in sala, però eventi come questo sono a maggior ragione importanti proprio perché promuovono un tipo di cinema che magari nelle sale è difficile trovare, perché comunque ci sono tante anteprime, le anteprime per le famiglie, poi c'è Piccolo Grande Cinema Classici, quindi vengono proiettati alcuni classici come ad esempio Gorilla nella Nebbia con Sigourney Weaver e poi tanti film anche di quest'anno, ma magari film europei che non hanno trovato posto in sala, usciti anche due o tre anni fa, piccole perle che potete recuperare in questo festival che si tiene nelle due sedi della Cineteca di Milano, Cineteca di Milano MET che si trova in zona Porta Venezia e Cineteca di Milano MIC che è in bicocca su Viale Fuglio Testi. In descrizione qui sotto trovate il link che vi rimanda alla home page del sito della Cineteca di Milano dove trovate sia gli indirizzi delle sedi specifici che il programma del Festival Piccolo Grande Cinema. Già l'anno scorso avevo collaborato con la Cineteca di Milano per questo festival che a causa del Covid si era tenuto solo online e adesso invece si tiene fisicamente nelle sedi della Cineteca di Milano e secondo me è un'occasione per fruire di una tipologia di cinema che magari conoscete poco oppure che conoscete ma non sapete dove andare per fruirne e quindi è importante supportare un evento del genere. Non solo, c'è anche un evento nell'evento che apre il Festival Piccolo Grande Cinema il 31 ottobre che è la mostra intitolata Nella mano di King Kong che è nella sede MIC della Cineteca di Milano in bicocca ed è qualcosa di straordinario perché si tratta di una mostra dedicata a Carlo Rambaldi eccellenza italiana per quanto riguarda gli effetti speciali un personaggio straordinario che ha lavorato a tanti film che conosciamo bene come ad esempio E.T. oppure Jurassic Park e questa mostra ripercorre il suo lavoro fatto per i film di John Guilherme in King Kong degli anni 70 per cui nel 76 ricevette un Oscar per gli effetti quindi insomma stiamo parlando di qualcosa di eccezionale il pezzo forte della mostra che comprende dei dipinti, delle stampe, dei bozzetti riguardanti quel film e in generale riguardanti i lavori di Carlo Rambaldi è la mano di King Kong gigantesca 6 metri per 2 e io sarò lì il 2 novembre in bicocca alla sede della Cineteca nella mostra per visitarla quindi se volete venire per fare due chiacchiere visitare insieme la mostra, a me piacerebbe tantissimo sarei felice se avete voglia sapete che sono lì intorno dalle 14 circa comunque inizierò a girare per le 15 se siete lì possiamo fare questo viaggio nel talento di Carlo Rambaldi anche nel mondo di King Kong peraltro verranno proiettati alcuni film relativi a King Kong nel contesto del festival durante la durata del festival e questa cosa è fantastica perché oltre al film di Guillermin verranno proiettati poi anche dei grandi classici film muti che verranno proiettati con la musica dal vivo come si faceva una volta quando imperversava il cinema muto che nei cinema c'era magari il pianista oppure l'orchestrina che ti musicava il film direttamente mentre lo guardavi sarà un'esperienza clamorosa che vi invito per appunto a considerare di provare e tra l'altro cosa ancora importante la mostra non finisce col festival la mostra apre il festival il 31 ottobre ma poi continuerà e sarà visitabile fino al 9 gennaio 2022 quindi avete parecchio tempo e le date del festival sono secondo me molto interessanti perché? perché inizia il 31 ottobre finisce il 7 novembre quindi anche se magari in quei giorni siete da qualche altra parte visto che ci sono vari eventi in giro potete comunque partecipare al festival nei giorni successivi cioè questa è una cosa secondo me importante e mi raccomando pensate di farlo cioè mettetevi anche solo l'idea in testa perché sono eventi come questo che fanno un grande bene a un'arte che tutti amiamo perché è vero che io mi sono specializzato in film mainstream per l'amor del cielo però questo non significa che io non conosca grandi classici non abbia visto tonnellate di film muti di film delle origini perché comunque io ho anche studiato cinema ma tuttora lo faccio peraltro sul sito della Cineteca trovate tantissimi film mediometraggi lungometraggi cortometraggi storici trovate anche per l'animazione ci sono corti animati risalenti negli anni 20 negli anni 30 cose che non trovate da nessun'altra parte se volete farvi una cultura sul cinema con la C maiuscola il sito della Cineteca è perfetto e anche questo festival è altrettanto perfetto la Cineteca di Milano è un'istituzione con cui io ho il grande piacere di collaborare perché l'idea che io sia stato chiamato a collaborare con la Cineteca di Milano per me è qualcosa di incredibile è una gioia che mi esploda del cuore non avete idea io sono contentissimo sono stato contento di collaborare l'anno scorso sono a maggior ragione contento di collaborare con loro quest'anno in cui il festival si tiene fisicamente non vedo l'ora di visitare la mostra quindi assolutamente un'iniziativa spettacolare poi c'è anche Cinema Sarà che è un'iniziativa che coinvolge le scuole che verranno gli alunni delle scuole verranno chiamati a eseguire dei workshop riguardanti una domanda molto importante quale sarà il futuro del cinema è questo quello che ci si chiede il futuro del cinema può sembrare incerto ma il cinema è titanico niente ferma il cinema nessuna difficoltà può abbattere quella che secondo me è una delle migliori più belle e spettacolari arti che esistono nel mondo è come se fosse un regalo all'umanità il cinema quindi è importante supportare iniziative come questa è importante se siete nella zona anche solo farvi venire la curiosità ma vado a vedere la mostra ma vado a vedermi magari una proiezione è importante secondo me perché si parla tanto di dare supporto al cinema ebbene il supporto si dà sicuramente andando in sala facendo incassare vari film ma si dà anche ad iniziative che sono dedicate alla parte più profonda del cinema perché il cinema è fatto di tanti elementi c'è il film di puro intrattenimento ma ci sono anche film che ti lasciano qualcosa e la maggior parte di questi purtroppo molto spesso non li potete vedere nelle sale questi eventi eventi come piccolo grande cinema sono il modo giusto per recuperare opere che altrimenti non avreste avuto modo di guardare ma anche magari per guardare grandi classici che non avete mai visto su schermo per cui assolutamente da provare per cui noi ci vediamo se volete il 2 novembre alla mostra nella mano di King Kong dove troverete tantissime illustrazioni stampe e quant'altro e poi la grande mano di King Kong e altri prop che sicuramente vi faranno battere il vostro cuoricino cinefilo quindi vi abbraccio vi ringrazio infinitamente per avermi seguito tanto ma tanto ma tanto ma tanto bene e poi vi dico che sarò anche giurato per la cine game gen che è l'iniziativa dell'interno piccolo grande cinema che chiama tanti volenterosi game designer a realizzare nel giro di pochi giorni un videogioco che abbia una tematica cinematografica e quindi io visionerò giocherò ai vari videogiocchi che verranno inviati e poi insieme a Fenrir ormai rochi giudicheremo quali sono i migliori che sono meritevoli della premiazione e adesso secondo me è particolarmente importante che un'istituzione come la cineteca di Milano si sia aperta al concetto di gaming questo dimostra quanto sia forte ormai il legame tra i videogiochi e il cinema e non è da sottovalutare che in un evento tanto illustre come questo ci sia spazio anche per il gaming quindi noi ci vediamo al prossimo buon vlog ciao a tutti